e bello a tutti ragazzi io sono Lykes oggi siamo qui su Brawl Stars dopo l'aggiornamento che ho appena fatto e a primo impatto possiamo vedere che hanno tolto lo sfondo quello di natale con la neve dobbiamo avere offerta del giorno 3 ticket ok poi qua prendiamo tutto vediamo allora non ok questa è la nuova modalità del Brawl Stars del foot brawl che appunto spawnerà spawneremo dentro la porta dopo essere morti poi hanno messo nuove mappe come ad esempio io appunto questo è il foot brawl poi altre per ora non mi sembra che ne abbiano messe cioè non ci sono oggi comunque e andiamo a vedere se c'è il nuovo brawler no non è stato inserito ancora il nuovo brawler ok è stata modificata però le skin dei personaggi come stecca che è diventato questo uno spara gemme questo spara palline con dentro la pancia le palline andiamo a vederlo carino poi altri personaggi che sono cambiati dovrebbe essere cambiato poco eccolo poi credo basti di quelli normali hanno cambiato spike quello rosa eccolo e e e e e penso basti sì non ci sono stati altri cambiamenti ah sì colt hanno fatto più un po più pistolero con la cintura e allora appunto andrei a provare oggi stecca riproviamo ad usare stecca come nel video precedente se ve lo siete best andate a vedere dove scleriamo lo stecca e andiamo a farlo nella nuova mappa la nuova modalità di football dopo vi mostrerò vi mostrerò qui a destra a mia a sinistra vi mostrerò tutte le nuove skin che verranno inserite che sono mi sembra tipo quella di poco e san valentino quella di bull versione football e verrà inserita probabilmente con la finale col super bowl che è il 4 lui no sì il 4 lui che è il 4 febbraio poi altre che andrò a far vedere sempre qui accanto ok andiamo su football iniziamo ah non so se l'avete notato ma i cettoni questi accumulabili adesso sono 194 cioè sono 200 diciamo 194 su 200 accumulabili possiamo accumulare fino a 200 cettoni invece che prima era fino a 100 molto comoda come cosa ok forse sì 100 effettivamente era un pochino troppo poco ok proviamo abbiamo una penny e un brock contro nel primo non è neanche male stecca su questa mappa perché comunque i colpi rimbalzano vediamo con la ulti no sono nascosti ulti pessima noi siamo morti prendiamo la palla dobbiamo recuperare vita se mettete quel brock magari è un po' difficile segnare effettivamente quando spawnano dentro la porta perché devi praticamente far fuori tutta la squadra per poter segnare aiutiamo aiutiamo la penny è morta ok sono morto anch'io ci stiamo tenendo particolarmente su eh però però disegnare disegnare non se ne parla ah i colpi nuovi di yes sì questa l'ammazza e l'ammazza è morta davvero complicata adesso i colpi di yes hanno quell'aura intorno che sembra tipo una sfera d'energia come vedete muori ci dovrebbe essere penny se farà ok sta dovretta quanti rimbalzi fa il colpo degli yes i quindici dai ma colpito sei ho colpito prima il mortaio un po' croc ho colpito a me ok abbiamo vinto bella partita gettone stellare ok 20 20 ho finito i gettoni non ho doppi i gettoni li ho finiti ok più 6 ok perfetto io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video dove andremo a provare quando uscirà il bilanciamento il nuovo brawler un saluto a tutti e bella ciao ciao Grazie a tutti.